Noi che ci occupiamo di sicurezza alimentare abbiamo fornito questo modello che abbiamo al livello sperimentale messo su che si chiama smoke trisis, cioè la dispersione dei fiumi nell'ambiente per capire quanto il contaminante contenuto nel grande ruco possa aver influenzato e contaminato le produzioni di origine animale ma anche di origine vegetale e poi quali riflessi ha rispetto alla salute umana, quindi noi ci interessiamo di questo e non l'abbiamo fatto solo per la prima volta, ovviamente tutti i grandi rubi, l'ultimo credo che sia quello di Battipaglia in ordine di tempo ci ha visto muovere questo sistema che noi organizziamo insieme all'ARPAC e insieme al Dipartimento. Quindi sarete protagonisti dei controlli dei prossimi giorni? Che facciamo, innanzitutto abbiamo fornito il nostro modello per capire qual era la dispersione dei fumi e dove finivano questi fumi, quindi anche su quali produzioni, se adesso su quel territorio ci sono dei vegetali ne abbiamo costruito un buffer e nell'ambito di questo buffer poi andiamo a fare, faccio un esempio pratico per far capire al cittadino, se c'è un allevamento di vacche da latte andiamo a prendere il latte e andiamo a capire. Questa cosa non può avvenire solo tempestivamente, deve avvenire anche dopo perché per esempio le diossine entrano in un sistema di catena alimentare non immediatamente, devi dare il tempo di un assorbimento e poi di una produzione, quindi corri il rischio che se lo fai subitissimo non ce la trovi, se ci vai dopo dieci giorni la trovi nel latte, quindi con tutti i criteri di conoscenza deve essere prolungato, deve essere costante e fatto ovviamente con una competenza tecnica che ci consente di essere attivi per evitare che il cittadino a tavola poi si ritrovi, perché un incendio, un grande rugo fa un danno, comunque e sempre, la valutazione di questo danno compete a una serie di istituzioni, tra le quali anche all'Istituto Zoprofilattico che si occupa soprattutto di sicurezza alimentare. Potremmo aspettarci delle ordinanze nelle prossime ore alla luce dei primi risultati dell'ARPAC in questo caso sul divieto di consumo di vantaggi? Guardi, immediatamente... O dovrebbe già esserci in via cautelantica? Immediatamente il principio di precauzione che il prefetto ha costruito insieme al suo staff mi è sembrato intelligente, cioè dire alla popolazione cerca di preservarti e non esporti troppo mi sembra un consiglio saggio. Al netto del fatto che adesso cominciamo una serie di valutazioni, l'ARPAC mette i deposimetri per la valutazione dell'aria, individua le sostanze, ne capisce la tossicità, noi facciamo i nostri pezzi di prelievo, quindi andiamo a prendere i campioni e capiamo quanta tossicità c'è nell'alimento, quindi ognuno farà la sua parte e nel momento in cui anche grazie a un forte impegno del Dipartimento di Prevenzione dell'Asla di Avellino sapremo tutti questi elementi quali sono, perché noi forniamo le analisi, i servizi veterinari fanno i campionamenti, quindi vedete come le istituzioni pubbliche poi non sono rimaste con le braccia concerte e mi sembra di poter dire che in questo caso in provincia di Avellino forse stiamo dando anche un esempio di efficienza e di efficacia.